L'Inter sta per intraprendere un nuovo viaggio ricco di emozioni, e abbiamo una notizia che scuoterà tutti i cuori nerazzurri. Ma prima, cari tifosi, vogliamo rivolgervi un invito speciale, iscrivetevi al nostro canale per ricevere in prima persona notizie dall'Inter. Non perdere questa occasione per rimanere sempre aggiornato sul club più appassionato d'Italia. Ora mettiamoci al lavoro. Nelle ultime dichiarazioni del celebre allenatore Cersei Cosmi alla Gazzetta dello Sport, ha fatto rivelazioni sorprendenti sull'Inter e ha suscitato aspettative incredibili. Cosmi, ricordando i tempi d'oro del calcio italiano, quando brillavano stelle come Ronaldo e il fenomeno, Totti, Del Piero, Battistuta, Shevkenko e Zidane, ha dichiarato qualcosa che renderà gli interisti ancora più ansiosi. E attenzione, amici miei, questa non è semplice nostalgia, ma puro realismo. Curiosamente, alla domanda sull'avversario più forte che abbia mai affrontato, Cosmi non ha esitato a rispondere, Ronaldo, il fenomeno. Sembrava gettato dal destino in mezzo al campo, giocando contro 21 esseri umani, mentre era in una categoria superiore. Queste parole sono capaci di far rabbrividire qualsiasi tifoso, poiché ci ricordano la grandezza e l'impatto che un giocatore eccezionale può avere in una partita. Ora, tornando alla nostra amata Inter, Cosmi ha una visione promettente per la squadra. Crede che il nostro club abbia tutte le condizioni per vincere lo scudetto in questa stagione. C'è però una situazione che deve essere assimilata dalla squadra, l'addio di Brozovic. Ma niente paura, in fondo abbiamo un centrocampista di talento tra le nostre fila, frattesi. Il giovane ha una promessa e promette di svolgere un ruolo cruciale nel nostro percorso verso il successo. Cosa ne pensi delle parole di Cerse Cosmi? Lascia i tuoi commenti qui sotto e condividi le tue aspettative per la prossima stagione dell'Inter. Cogli l'occasione per iscriverti al canale e non perdere nessun dettaglio di questo entusiasmante viaggio che ci aspetta. Insieme, siamo inarrestabili! Forza Inter! Forza Inter!